Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di appriamone MonsterLol Si che bello Allora ragazzi questo qui non è del box diciamo Perché il box l'abbiamo finito tutto lo sapete E' un'altra che ho preso a parte E' arrivata poco tempo fa E ragazzi siccome a noi le MonsterLol ci piacciono tantissimo Non possiamo non scattarne una ogni tanto Giusto? Scusate Allora per questa magnifica apertura della nostra innesima Monster Abbiamo con noi A parte che vi faccio vedere a scatolotto da dove è uscita questa Monster Come vedete è la Wave 1 Serie 1 Wave 1 Certo dentro non si è mai trovato niente di tutto ciò Però facciamo finta che è della serie 1 Wave 1 Facciamo finta che è quello Allora per questa magnifica apertura della nostra ennesima Monster Non riesco neanche a parlare stamattina Della nostra magnifica Monster Bowl Ci accompagna L'avete già vista qua che è cascata dalla scatola La sorellina di Harley Quinn Che però io in questo momento chiamerei Sbianca Non Bianca Sbianca Oggi mi è venuto il nome per questa Monster Sbianca Perché sei bianca cadaverica Sembra la sorella di Harley Quinn La sorella più piccola di Harley Quinn Per cui ti chiamo Sbianca È bellissima Bellissima Oddio Tamara ma stai a di È un tipo Ecco Poi abbiamo la nostra Cenerentola delle Monster Qualcuno l'ha soprenominata anche Cenerentola dei Poveri Però io la chiamerei Cenerentola delle Monster Sì sono io Sì Oddio Poi c'è la nostra Bassotta Ciao Come vedete l'altezza più o meno delle Monster è quella Poi abbiamo Trauma Ciao Oh mio Dio Trauma che carina Abbiamo la nostra Paste Ciao Ciao E poi E poi Dulcis in fondo Ma nienta nienta Sì Va bene ragazzi Direi di cominciare con l'apertura di questa bellissima Monster Ball E vediamo che altro mostro troveremo all'interno Perché qui la Monster Compagnia Diciamo La compagnia delle Monster Sta diventando sempre più grande Andiamo ad aprire il primo strato Vediamo un po' Gli adesivi E va bene Gli adesivi comunque ci piacciono Anche se sono delle Monster Cioè è giusto che ci siano gli adesivi Adesso Nel secondo Come si dice Nel secondo strato Dovrebbero esserci l'indizio O sbaglio Vediamo un po' Cosa c'è nel secondo Non c'è niente Ah eccolo qua Sempre il solito Vestitino con lecca lecca O se no vestitino con ventilatore O vestitino lecca lecca O vestitino ventilatore Per cui ragazzi sappiamo per certo Che è una Monster E di lì Non si scappa Apriamo il nostro terzo strato Il terzo strato dovrebbe essere Farlocco Ma come conosco bene le Monster Ragazzi Cioè più farlocconi di così Il terzo strato non poteva essere Perché di solito almeno Si intravedeva il sacchettino Ma il terzo strato qui È proprio farlocco 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 Le mie amate Monster Andiamo avanti col quarto strato Cosa ci propone il quarto strato Vediamo un po' No è farlocco No è farloccone anche il quarto strato Ma allora no non è farloccone Perché Oddio Oddio un'altra tutina No abbiamo trovato un'altra gemella Ragazzi Ma i gemelli qua Impazzano i gemelli Ma questa tutina Noi l'abbiamo già vista Aspetta che vado a prendere la Monster A cui appartiene la nostra tutina Un attimo Sono qua Vediamo Eccola qui Alla nostra storta Appartiene quella tutina Vedi Aspetta che arrivo Guarda qua Chi ha la stessa tutina Eh Un lilla un po' Più chiaro La nostra storta C'è la tutina Troviamo storta La Storta la vendetta Storta due il ritorno Adesso vediamo Cosa troviamo Vabbè Abbiamo trovato la tutina Ora vediamo Cosa troviamo I sacchettini Cichedelici Uno Vediamo un po' Ci sono gli stivaletti No Ugo la storta Ah Guardate che belli stivaletti No ma ragazzi Ma le Monster Vi stupiscono ogni giorno Di più No ragazzi Guardate che belli Non ci posso credere Ragazzi Gli stivalotti Che arrivano Quelli che ha la Come si chiama Mannaggia Non mi vengono i nomi Stamattina È una cosa incredibile Aspetta Aspetta Che trovo la ciclista Perché le ciclist Qua abbondano Eccola qua Aspetta Che arrivo Aspetta Che arrivo Aspetta Che arrivo Ecco Chi ce li ha Con gli stivalotti Lì Ce li ha lei Ops Solo che Ce li ha Bianchi Ovviamente Però C'ha Anche Prank Sta qua Come si chiama Lei C'ha C'ha gli stivalotti Che arrivano Fine in alto Belli No ragazzi Il saltone di qualità Delle monster Oddio Dove deve andare Questa Fa spettacolo Apriamo l'altra Apriamo 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 Il sacchettino Del biberon Vabbè Allora Qua c'è Un rosa E verde No Come potete vedere Cioè Non lo vedo Solo io Che è rosa E verde Qua Tiro fuori Sarà Azzurro Blu No Verde E rosa Ma Ma com'è Aspetta Rosa e verde Tiri fuori Tamara Rosa e verde Ma l'altra volta Era azzurro Blu E vabbè Non farti domande A cui non sai rispondere Tamarinda Niente ragazzi È venuto il momento Di aprire la nostra Monster LOL E di vedere Se troviamo Un'altra storta Oppure Un altro Proprio Un altro Personaggio Aiuto Ho c'ho l'ansia Infatti che sta Sta buona Non si rapre Che non ti apri Oddio No Non è Sì È Tra trauma E storta Sta poveretta C'è un mix Ma tu da dove sei arrivata Guarda qua Sei conciata malissimo Sei proprio Conciata male Ti hanno tagliato A fettine Ti hanno riportato Oddio È tra trauma E storta Perché gli occhi Sono da trauma Questa è la nostra Checklist Insulsissima La conosciamo bene Ormai E poi abbiamo I soliti Accessori Gli accessori Li chiudono sempre Con lo scotch Perché hanno paura Che li fregano No Questi Mitici accessori Abbiamo proprio paura Che ce li fregano Guarda Guarda Il ciuccio Due cellulari C'è lei Bene Gli occhiali La coroncina Sempre la solita Due ciucce È andata a doppio Questa Allora Signori Qua Il trauma C'è E si vide Come potete Vedere Questa C'è un po' Gli occhi Dice Do sto Non credo Di sentirmi Troppo bene Mi hanno tagliuzzato Si vede Si vede Che ti hanno tagliuzzato No ragazzi Questa Questa sta messa Peggio Distorta Fino a mo' Direi che è la peggio Ragazzi Questa è La sorella di faccia Sfonnata Non è la sorella di faccia Sfonnata Perché anche se Ha lo stesso Stesso parrucco Ma lei è molto più Traumatizzata Di trauma Come potete vedere Perché Trauma Si è traumatizzata Per carità C'è due occhiaie Che gli arrivano a terra No Però Questa Oltre Ad essere traumatizzata È proprio Che Non sa Dove si trova Capisci Allora Lei rimane Trauma Traumatizzata E questo Va bene Perché è proprio Il nome suo Quello No Questa qui Questa qui Poverina Non si andò Stata a casa Io la chiamerei Limbo Ragazzi Rido Da sola Io Io la chiamerei Limbo Perché Perché lei Ragazzi Non sa dove Si trova E siccome Il limbo È una zona Tra te E me Nel senso Sto di qua Ma non sto di qua Direi che limbo È il nome Ideale Per lei Povera creatura Ma che Aspetta Che qua va Amore Tu Hai avuto Degli scompensi Questo Se hai capito Subito Appena Ti ho tirato fuori Povera Crista Il tuo Outfit È la fine Del mondo A parer Mio È il più Bello Che abbiamo Trovato Fino a Mo Forse Per farti Tornare In te Ci vorrebbe Una trasformazione In ariana grande Certo Che da diventare Da limbo Ad ariana grande Ragazzi Un bel saltone È solo che Ultimamente Non ho tanto tempo Però Io credo Ditemi anche voi Ragazzi Cosa ne pensate Del fatto Di trasformare Limbo In ariana grande Cioè Gli stivaletti C'è Gli ha Il body Ci li ha Basta mettergli Un po' Di colore Basta Mettergli Tagliarli Qua Sistemarla Un attimo Cioè Cambiarla Completamente C'è limbo Non sarà Più limbo Ma sarà Ariana grande Ragazzi Allora Diciamo Che lei Senza la testa Ecco Vista così È fantastica Se gli mettiamo La testa Ovviamente Lei diventa Limbo Amore Tu hai avuto Tanti Tanti Problemi Cioè Ti si vede Proprio in faccia Che In confronto A cenerentola Che L'ultima volta Abbiamo tirato fuori Abbiamo visto Che non ne ha Di problemi A parte La sua altezza Tu Tu sei più alta Di lei Ecco Tu sei più alta Di lei Infatti È per quello Che hai Tanti Tanti Problemi Amore mio Che cosa Ti hanno Fatto Ti hanno dato Addirittura Due cellulari Per riprenderti Ti hanno dato Due ciucci Ti hanno dato Perché ti hanno dato Due ciucci Non si sa Perché ti hanno dato Due ciucci Ti va bene Il nome Limbo Mi va bene Tutto Certo Perché Non sei più Cosciente Praticamente Allora ragazzi Io direi Che abbiamo Presentato Anche Limbo Mi piace Moltissimo Il suo outfit Ditemi anche voi Che cosa ne pensate Di trasformare In Ariana Grande Non so Quando ci sarà Questo video Perché ormai Ho ricominciato Con i mercatini Dico sempre Devo fare questo Devo fare quello Devo fare quell'altro E mancabilmente Non riesco a fare nulla Devo fare anche Il diario delle LOL Luffy Ah e poi Un'altra cosa Ragazzi Prossima settimana Non ci sarò Per cui Prossima settimana Non ci saranno Video Ne farò ancora Uno domani Se riesco E poi basta Fino a Fino a L'altra settimana Ancora Per cui ragazzi Io Con le monster Vi saluto Con la limbo Domani Se riesco Perché non hai detto Che riesca Ma spero di riuscire Ci farò L'ultimo video Delle LOL E poi niente ragazzi Poi ci rivedremo Fra una settimana Per Però Ditemi anche voi Che cosa Ne pensate Io Il diario delle LOL Lo farò Questo è poco Ma sicuro Lo faccio Però Non so quando Ovviamente Però tranquilli Che arriva Il diario Il diario Delle LOL Tanto voi Ci siete No Mi aspettate Vero Grazie Allora ragazzi Io vi saluto Con tutte le mie Piccole monster Guarda che carina E ditemi anche voi Se non è Questa Quella che ha avuto Più traumi Cioè ma Già se vede Dalla faccia Che è stata Traumatizzata Ditemi anche voi Che cosa ne pensate Per Trasformarla Di trasformarla In Ariana Grande O lasciarla Limbo E io Ragazzi Vi saluto E alla prossima Ciao Da Limbo Ciao E da tutte le monster Ciao